Ciao, questa è Spider Flash Track Series e oggi vediamo il Buddha Bounce. Questo trick è una variante del Butt Bounce in cui rimbalzo a gambe incrociate nella posizione del Buddha. Per impararlo si può partire dal Butt Bounce incrociando le gambe in volo cadendo in Buddha per poi tornare in Butt Bounce. La versione più facile è quella in cui la gamba posteriore del Butt Bounce diventa la gamba anteriore del Buddha e viceversa. Si può però eseguire anche in maniera inversa. Una volta imparati entrambi si possono fare due Buddha Bounce di fila invertendo le gambe in volo. Ci vediamo al prossimo trick!